Un audace sistema di strade, tunnel e ponti, tra cui il maestoso ponte sospeso Longjong. Chiunque sia abbastanza coraggioso da attraversarlo si troverà a 300 metri da terra, sperando disperatamente che il ponte non inizia a tremare. Longjong è situato in una zona sismica, una regione della Cina soggetta a scosse così forti da radere al suolo intere città. Un famoso terremoto negli anni 70 ha distrutto 400.000 edifici locali in pochi secondi. Il ponte sospeso Longjong è dotato di giunti mobili ad alta tecnologia, progettati per assorbire eventuali potenti terremoti e mantenere la struttura al sicuro dal crollo. Ma con o senza questi giunti mobili, l'idea di subire un potente terremoto su una piattaforma a 300 metri dal suolo è sufficiente per innervosire chiunque. E il ponte sospeso Longjong è solo l'inizio. Se la minaccia di terremoti è già terrificante, cosa dire di un ponte che una volta già crollò?